Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò degli strumenti per la nail art in gel oggi vi mostro il top coat e il base gel questi qua, entrambi insieme, li ho pagati 3,58€ ovvero 5,19€ però se volete potete comprarli anche staccati a 1,83€ quindi se li comprate insieme, li staccati, spendete 3,66€ quindi alla fine il set costa pochi centesimi in meno secondo me potete comprare soltanto il top coat e usarlo sia come base che come gel sia come base sia come top coat perché penso che alla fine gli ingredienti siano gli stessi forse nel top coat c'è qualche pigmento brillantinato per appunto far brillare di più lo smaltola nail art alla fine quindi secondo me potete utilizzare il top coat sia come base che come top coat perché alla fine la base serve soltanto per isolare l'unghia da quello che ci mettiamo sopra e appunto far durare di più e penso che questa cosa la sa fare anche il top coat dato che quando mettiamo il top coat in gel ma anche quello annuale su uno smalto lo smalto ci durerà molto di più e questo è il video, spero che vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao